Kenyaman sta lavorando duramente per la sua nuova serie. Kenyaman è da tempo a Palermo per il suo nuovo progetto di serie, Violet Leak et See. La serie, in cui Kenyaman interpreta il ruolo principale con l'attrice e modella italiana Francesca Chillemi, ha elementi di tensione e comicità. Kenyaman, che parla già molto bene l'italiano, ha preso lezioni di italiano per avere una migliore padronanza della lingua prima dell'inizio delle riprese. Sono iniziate le riprese della serie, che i fan italiani dell'attore stavano aspettando con ansia. Il post di Kenyaman sul suo account Instagram ha aumentato l'eccitazione tra i fan turchi e italiani. La foto di Kenyaman pubblicata in italiano con la scritta, salta sul tuo set e inizia un nuovo giorno. Questa foto, che ha ricevuto migliaia di lichee in poco tempo, è stata anche la prima immagine della nuova serie. Il famoso attore lavora duramente per avere successo. Ci sono anche commenti lodevoli sulle televisioni italiane sull'attore, che ha ricevuto la ricompensa per i suoi sforzi e ha posto un trono nel cuore degli italiani. Il canale televisivo italiano TG4 ha rilasciato un'intervista al famoso attore girando sul set della serie di Kenyaman. Nel programma sono state usate parole di lode per Kenyaman. Kenyaman ha anche condiviso il video del programma con i suoi follower sul suo account Instagram.